Tre ore di visita a Lampedusa. La premiera italiana Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, domenica hanno visitato l'isola. Prima all'Hot Spot, poi al Molo Favaloro, il cosiddetto cimitero delle barche dei migranti. La visita sull'isola della numero uno della Commissione Europea ha riacceso inevitabilmente i riflettori sul ruolo chiave dell'Europa per trovare una soluzione all'accoglienza dei migranti. Io non considero questo tanto un gesto di solidarietà dell'Europa verso l'Italia, lo considero piuttosto un gesto di responsabilità dell'Europa verso se stessa, perché questi sono i confini dell'Italia, ma sono anche i confini d'Europa. I dati degli ultimi tre anni certificano un aumento degli sbarchi dei migranti in Italia, nel 2023 addirittura il doppio del 2022. Per l'Italia si tratta di una vera emergenza anche umanitaria. Mentre Fonderlein e Meloni erano in visita a Lampedusa, la Geo Barents, la nave di soccorso di Medici Senza Frontiere, ha trasportato 471 migranti nel porto di Brindisi.